Un inno di Mameli interculturale, cantato tutti in piedi e con la mano sul cuore prima delle note dell'inno alla gioia, simbolo musicale dell'Europa. È cominciato così il diciottesimo meeting dei diritti umani dedicato alla pace, alla sostenibilità ambientale e alla giustizia alimentare, che al Mandela Forum di Firenze ha riunito 10.000 giovani provenienti da tutta la Toscana e non solo. Perché per la prima volta, come ha sottolineato il presidente Rossi, il meeting ha assunto una dimensione europea con la partecipazione di ragazzi provenienti anche da Istria e Normandia. Quello che oggi si sottolinea è questo, insomma, mi sembra il punto. Non c'è pace senza giustizia. L'Europa è la dimensione della pace su cui bisogna insistere. Guai al ritorno a nazionalismi, a forme di razzismo. Sul palco la musica dei canti erranti si è alternata ai video realizzati dai ragazzi e agli interventi dei conduttori Camila Rasnovic e Roberto Vecchioni, che ha dedicato ai giovani una poesia sulla pace di Pablo Neruda, in un palazzetto che è diventato improvvisamente buio. Si è illuminato delle luci di migliaia di cellulari, versione aggiornata di quel che un tempo facevano gli accendini. Un modo diverso di fare scuola, insomma, che i ragazzi hanno mostrato di apprezzare. Penso che siano in modo migliore per metterci a conoscenza di questi temi, per farci esprimere anche noi. Da Papa Francesco a Toro Seduto erano molte le citazioni che campeggiavano sulle balaustre del palasport evocando il rispetto della natura e dell'ambiente. E proprio pensando alla visita del Pontefice a Firenze in programma il prossimo anno, dal sindaco Dario Nardella è arrivato un appello ai ragazzi. Perché non ci ritroviamo qui al Mandela Forum per preparare la visita di Papa Francesco a Firenze, per dare un senso e contribuire con i giovani a cambiare il mondo? Grazie al finanziamento ricevuto dall'Unione Europea, che ne garantirà lo svolgimento anche nei prossimi tre anni, a gennaio il format sarà esportato in Normandia e in Istria e dal 2015 si svolgerà in contemporanea nei tre paesi.